Nicchi, Ruocco, Nicchi ha votato, Ruocco sta votando, ok, Rosato, Piccolo Giorgio, Cuomo che sta arrivando al posto, è affatto, Piccolo ha votato, ci siamo, vero, abbiamo votato tutti, è chiusa la votazione, la Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà le ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, la seduta è sospesa. Grazie. Grazie.